Sono con il mio carissimo amico Luca, ciao Luca. Allora Luca qui c'è un mazzo di carte, no? Allora prima cosa ti dico già subito che non toccherò mai le carte da gioco, ok? Quindi mi metto distante, sto riprendendo, siamo in diretta live, ok? Luca ti chiedo in cortesia, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi. Dieci di fiori. Dieci di fiori. Ora ti chiedo di darmi un numero, non grande, un numero magari che ti porta fortuna, un numero che vuoi tu. Tredici. Tredici. Se adesso Luca tu giri le carte di faccia, tutte, no? E senza contare i jolly, la tredicesima carta fosse il dieci di fiori, è un miracolo. Abbassando. È impressionante, giusto? Tu stesso gira, conta uno, due, tre, quattro, cinque, questo è il jolly, sei, sette, esatto, otto, otto, nove, dieci, undici, dodici. Giuro che non ero d'accordo. Ma è ovvio, è un miracolo. Ora tu dimmi te, se questo effetto è inspiegabile. Ma come fai? Cioè Luca, io, parliamo di carte tutte regolari. No davvero, giuro, per chi mi sta guardando che non stavo assolutamente. Puoi giurarlo davanti a... Giuro, su chi volete, non ero d'accordo. È pazzesco, vero Luca? Questa si chiama Supreme Account, Account Supremo l'ho chiamato. Pazzesco, bravissimo. E io ti ringrazio di cuore Luca. Grazie a te. Grazie veramente. Grazie. Miracolo.